Buonasera, ben ritrovati, è naturalmente buona domenica, è stata una settimana intensa, tanti fatti di cronaca, ma anche la politica e l'attualità, e allora ripercorriamo gli ultimi sette giorni. Le celebrazioni per i 500 anni del ghetto ebraico sono cominciate in queste ore con il concerto alla Fenice di Venezia, alla presenza dei rappresentanti della comunità ebraica, delle autorità locali e della Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, giunta in laguna nel pomeriggio e accompagnata in visita al ghetto dal Presidente degli ebrai veneziani Paolo Gignati. È una ricorrenza che parla di storia, religione e inclusione nel nostro tessuto sociale, ha commentato Boldrini, e di comunità che si sono incontrate nel rispetto delle loro tradizioni. Io penso che la giornata di oggi voglia dire una cosa molto chiara, si può avere la propria religione, la propria identità senza venire messi da parte, senza mettere queste persone in condizioni di soffrire, di sentirsi diversi. Noi dobbiamo conoscerci tutti e rispettarci e fare in modo che si possa vivere insieme bene tutti, specialmente al tempo della globalizzazione, dove se non si fa questo si rischia tanti piccoli ghetti e non è questa la società che vogliamo. Gli appuntamenti ufficiali per la commemorazione del primo ghetto d'Europa, nato con un decreto della Serenissima il 29 marzo del 1516, erano cominciati in mattinata con l'incontro tra il sindaco veneziano Luigi Brugnaro e l'ambasciatore israeliano Naor Ghilon. La regione Veneto spiega invece il governatore Luca Zai è impegnata per una valorizzazione storica e culturale dell'identità ebraica, una comunità sempre ben integrata e legata alla storia della Repubblica Serenissima, in un'epoca nella quale in Spagna e in Germania e in Inghilterra si praticava la persecuzione. Non a caso ricorda proprio da Venezia è partita la più grande produzione letteraria ebraica italiana ed europea, che contano meno del 50% delle opere. Non sono normali queste buse, perché tante volte il casca e dopo chi... dove vai? Non spiega. È rischioso di accadere specialmente chi ha problemi ginocchi, le gambe e anche le persone anziane. L'asfalto su questa strada è terribile, ci sono le buche, non si può camminare, faremo causa al comune eventualmente per danni. La situazione dell'asfalto nel tratto finale di Corso del Popolo, già critica per auto e moto, si è ormai aggravata al punto tale da costituire un rischio anche per l'incolumità dei pedoni. E tra i cittadini c'è chi minaccia di trascinare l'amministrazione in tribunale. Sono già due le anziane signore ad aver riportato degli infortuni inciampando nelle buche. Una di loro è finita in ospedale con una caviglia rotta. L'assessore comunale Renato Boraso è consapevole della gravità della situazione e chiederà al sindaco una dichiarazione d'urgenza, passaggio necessario per finanziare una riasfaltatura che altrimenti non sarebbe possibile a causa del patto di stabilità. Mentre la popolazione ha già cominciato a perdere la pazienza. Mi sembra che sarebbe giusto da metterle a posto? Non ci sono soldi per niente, per nessuno. Certo che con tutte le tasse che si pagano forse qualche cosa si potrebbe mettere in ordine. Sono anni che non fanno più niente. Speriamo che il sindaco qua che fa tutto faccia qualcosa in più. Un malore improvviso del comandante, il vaporetto ad un tratto senza controllo, poteva finire molto male per i 200 passeggeri della linea 1 in servizio giorno di Pasqua tra Sant'Ele e nei giardini della Biennale. A salvare la situazione il marinaio 27enne Steven Benetto che ha preso in mano i comandi ed è riuscito a far approdare il mezzo a Riva. Non sono un eroe, si schermisce su Facebook dove in molti gli hanno fatto i complimenti. Tra chi si è congratulato anche il comandante Nevio Oselladore, presidente del comitato lavoratori di navigazione. Fortunatamente è uno di quelli, non tutti sono così purtroppo, è uno di quelli che si è saputo un po' destreggiare. Diciamo un po' tutti noi, io ho compreso come abbiamo imparato a condurre le unità. All'italiana ci arrangiavamo nei momenti di meno afflusso, solo che ora i tempi di percorrenza, il fatto di cercare di costruire dei servizi con dei costi sempre minori. Diciamo che non c'è più questa possibilità di affrontare queste tematiche durante il turno di lavoro. Per questo, spiega Oselladore, molti marinai, a differenza del bravo Steven, oggi non hanno la minima idea di come si guidi un vaporetto. Purtroppo non è la prima volta che un pilota viene colto da malore, con rischi per i passeggeri che potrebbero essere evitati applicando qualche semplice norma del codice della navigazione. Differentemente dagli autobus, dove non è possibile avere un secondo pilota, sostiene il comandante, per quanto riguarda i natanti basterebbe un minimo di formazione per evitare ripetersi di incidenti come quello di domenica. Mentre nelle grandi unità si sta già facendo qualcosina sulle esercitazioni, nelle piccole unità, motoscafi, motobatelli invece non c'è ancora nulla. Ecco qui, diciamo, che nel prossimo futuro ci dovrebbero essere più investimenti per formare il personale, anche i marinai, perché il marinaio per quanto riguarda il codice della navigazione è il secondo comandante a bordo. È stato recuperato nel primo pomeriggio di mercoledì il corpo di Giovanni Pretto, il 34enne vicentino che ha perso la vita durante un'immersione, il sabato precedente la Pasqua a largo di Chioggia. La vittima non è più riuscita a tornare in superficie mentre si era addentrata all'interno del relitto della Evdokia 2, motonave battente bandiera greca affondata circa 6 miglia dalla costa nel 1991. Un ambiente difficile con una visibilità vicina allo zero, come testimoniano le immagini girate dai vigili del fuoco. Le operazioni di individuazione della salma e poi del successivo recupero sono state piuttosto difficoltose. Sul posto, oltre ai sommozzatori dei vigili del fuoco di Vicenza, Venezia, Roma e Viterbo, hanno lavorato anche due squadre esperte in spele o subacquea arrivate da Bari. Martedì pomeriggio, in corrispondenza del terzo livello della nave, dallo scafo lungo una sessantina di metri, è stato finalmente trovato il corpo di Giovanni, residente a Torri di Quartesolo in provincia di Vicenza. Le ricerche non si sono mai fermate sia durante la Pasqua che a Pasquetta, purtroppo, però, dopo qualche ora è stato chiaro a tutti che non ci sarebbe stato alcun lieto fine. L'abusivismo a Venezia che riguardi i portabagagli o i venditori di merce varia è un problema di difficile soluzione che va avanti ormai da troppo tempo. Questo è sicuramente il cancro che noi abbiamo trovato, è una situazione che è degenerata per troppo tempo e che adesso diventa difficile, diciamo, da eliminare così improvvisamente. C'è da chiedersi il perché di tanta difficoltà nell'eliminare il fenomeno dell'abusivismo, per cui sono già state fatte molte azioni da parte delle forze dell'ordine. Sono delle regole, va bene, dello Stato che complicano anche quelle che sono le iniziative per il da farsi a debellare queste attività. Sicuramente c'è una grande volontà da parte di questa amministrazione, da parte mia, ma non solo, anche da parte del sindaco. Abbiamo rincorso noi stessi, va bene, i venditori abusivi in piazza San Marco, proprio non se ne può più. Purtroppo abbiamo per certi versi le mani legate. Dobbiamo trovare il sistema per potercele liberare perché la volontà non soltanto c'è, ma sta esplodendo. Uno di questi sistemi sarebbe quello di unire le forze. Con un dialogo più aperto col prefetto, con il questore, perché sono le pedine fondamentali per la risoluzione di questo problema nella nostra città. Vediamo se riusciamo a trovare quello che è l'intesa per poter debellare finalmente, dar giustizia a chi regolarmente viene tutti i giorni penalizzato dagli abusivi. Le istituzioni incontrano le giovani sentinelle della legalità. Alcuni degli studenti dell'Icei Bruno e Franchetti che hanno aderito al progetto si sono potuti confrontare direttamente sui temi approfonditi durante l'anno scolastico insieme ai propri insegnanti. Un bellissimo lavoro anche sulla scia degli ultimi accadimenti che si sono verificati nel nostro paese, ma non solo, con l'iniziativa data proprio il primo incontro regionale sull'antimafia. Insomma, questo ci fa capire quanta sensibilità ci sia, fortunatamente, anche da parte di questi ragazzi per ritrovare un senso civico e delle coordinate di orientamento verso il tema della legalità e della giustizia. Tra i temi è anche la sicurezza in città e le baby gang. Va spiegato loro, ma il lavoro che hanno prodotto in questo periodo è quello che le baby gang hanno caratteristiche particolari. Fortunatamente nel nostro territorio non si può propriamente parlare di questo, quindi di baby gang, ma di attività e di episodi che sono assolutamente circostanziati. Al confronto hanno preso parte l'assessore alla sicurezza d'Este, il consigliere delegato anticorruzione Serena il presidente della commissione consigliare politiche educative alla legalità e responsabile nazionale del progetto scuola della fondazione Caponnetto Questura ai Carabinieri. È dal 2009 che la fondazione promuove questo progetto. Secondo d'Este, ai giovani però manca l'educazione civica che si insegnava una volta. Direi che ne manca parecchia e manca anche molta comunicazione all'interno della famiglia perché ritengo che la famiglia sia uno dei principali punti di partenza. Il ritrovare valori anche con la famiglia, l'ambiente scolastico e la società che oggi si evolve veramente di giorno in giorno per identificarsi in ruoli più precisi, che sono quelli appunto della legalità. Ancora momenti di tensione al ristorante Albergo Al Bragosso, a Sant'Anna di Chioggia, dove vengono ospitati alcuni profughi. Già a Pasqua c'era stato un intervento delle forze dell'ordine dopo che i migranti non avevano gradito il cambio di menù. Niente pollo e patatine, bensì della pasta asciutta. La variazione non è andata giù a coloro che vivono nella struttura. Lunedì è stato il turno del pan biscotto che i gestori dell'albergo hanno servito perché i forni erano chiusi per la Pasquetta e che i migranti hanno scambiato per del pane vecchio. Il tutto è sintomatico di una situazione di tensione che ha più riprese, ha messo in allerta polizia e carabinieri. L'ultimo episodio, poche ore fa, quando le rimostranze degli ospitati sono scaturite ancora una volta per il cibo. I gestori hanno deciso di ricontattare le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie a sirene spiegate per evitare che la situazione potesse degenerare. Una volta sul posto però, gli uomini in divisa sono riusciti a riportare la calma. Nonostante il livello di preoccupazione fosse molto elevato, i tumulti vengono generati da incomprensioni dovute anche alla differenza di lingua. Polizia e carabinieri hanno richiesto l'intervento della prefettura e l'episodio ha scatenato le polemiche politiche. Questi, chiamiamoli ospiti, sono sempre stati trattati troppo con i guanti, io l'ho sempre detto assolutamente. Credo che prima a Pasqua e a Pasquetta saremmo dovuti intervenire con i nostri cittadini italiani che vanno a recuperare il cibo scaduto nei cassonetti di supermercati. Un'altra cosa da dire è che questi signori devono imparare a farsi il mangiare. Di conseguenza potremmo benissimo impiegarli nei campi, prima a coltivarlo e poi anche a cucinarlo. Presentazione delle liste del Consiglio di amministrazione entro il 10 di aprile. Assemblea il 5 di maggio. Ovviamente già sotto forma di SPA, a valle di questa, le autorizzazioni della Consob e della Borsa italiana per l'operazione di aumento di capitale e di quotazione in borsa che poi sono parallele. Nei 15 giorni a seguire tutta un'attività sul mercato, quindi la ricerca degli investitori prima da parte dei consorzi e poi da parte nostra e verso la fine del mese, quindi potrebbe essere una data tra il 20 e il 25 di maggio, l'esternazione di una forchetta di prezzo per il quale partirà appunto l'offerta pubblica di quotazione. Questa offerta durerà due settimane, quindi immaginiamo che per metà giugno circa di essere quotati in borsa col miliardo che ci serve. Questi dunque i prossimi passaggi annunciati durante la tavola rotonda organizzata dalla CGL sulle banche popolari svoltasi a Mestre che porteranno Veneto Banca ad essere quotata in borsa. A breve dunque il futuro dei soci sarà delineato. C'è da guardare verso il futuro andando nel presente ad attuare tutte quelle politiche di sistemazione del bilancio che si sono già appalesate nel corso del 2015 e per le quali quindi la banca continuerà ad attivarsi per crescere ovviamente le coperture sul mondo dei crediti e per gestire le criticità che non solo da esso sono derivate. E per quanto riguarda i soci? Quelli che avevano ragione li abbiamo già rimborsati, quelli che stiamo guardando stiamo cercando di capire che tipologia di reclamo è e ogni reclamo viene trattato con grandi aspetti paritetici. Poi c'è un grande tema della perdita del valore dell'azione, quella la affronteremo anche con un po' più di calma post quotazione. Rimangono però diverse incognite che vedono la CGL in prima linea nel chiedere che le popolari restino legate a doppio filo con il territorio. Volevamo riflettere su ciò che è accaduto nel passato e su qual è la prospettiva su cui lavorare tutti insieme, ha spiegato la segretaria generale della CGL del Veneto di Gregorio. Le nostre imprese continua si caratterizzano per una forte dipendenza dal credito bancario quindi le ripercussioni su questi istituti di credito riguardano tutti. Ciò ci preoccupa, serve mantenere il legame con il territorio, conclude elemento di tutela del risparmio delle famiglie. Il governo sta studiando un provvedimento per alleggerire le sanzioni dovute allo sforamento del patto di stabilità da parte del Comune di Venezia. Lo afferma il sottosegretario dell'economia Pierpaolo Barretta rispondendo alle sollecitazioni del sindaco Luigi Brugnaro. Nella legge di stabilità c'è stata una prima risposta proprio alla specialità della città perché sono stati stanziati 65 milioni distribuiti in più anni per le opere di manutenzione della città. Quindi una prima risposta è stata data. Adesso nelle prossime settimane dovremo discutere anche di ulteriori elementi quali quelli delle sanzioni che sono allo studio del governo. Lo stesso patto di stabilità, aggiunge il viceministro dell'economia Enrico Zanetti, è una formula che ci apprestiamo a superare integralmente. Il che non vuol dire che i comuni, Venezia compresa, saranno esentati dal vincolo di chiudere il bilancio in pareggio. Ma chi solleva il problema della specialità lagunare non ha torto. Venezia indubbiamente ha bisogno di spazio per muoversi. è una città che ha dei costi particolari del tutto evidenti. Il governo deve essere vicino a questa città. Si può darle di più. È impensabile però che tornino i trasferimenti di 15 anni fa per il semplice fatto che è cambiata la struttura del bilancio dello Stato, la disponibilità del resto del paese verso Venezia. Più che nuovi trasferimenti, la soluzione, secondo Zanetti, sarebbe in un riassetto istituzionale della città. Quello che bisogna fare però è cercare di ottenere per Venezia maggiori poteri speciali più che finanziamenti speciali. Poi con i poteri arrivano anche la capacità di prodursi in proprio qui i soldi e tenerli. Da Venezia alla terraferma. I genitori non mollano e dopo le due proteste del panino autogestito contro i rincari dei buoni pasto, il sistema elettronico e ora anche la presa di posizione di Ames hanno dedicato un pesce d'aprile al sindaco Brugnaro. Per fare un promemoria, un pesce d'aprile al nostro sindaco, noi vogliamo ricordargli che non molliamo ma soprattutto che ci dia delle risposte o comunque un incontro, ci chiami per un tavolo in modo tale che noi genitori possiamo esprimere davanti alla giunta, davanti al nostro sindaco, le nostre richieste e poterne parlare direttamente con lui. Tantissimi pesci disegnati da grandi e piccini senza però voler sfruttare i bambini. Abbiamo detto semplicemente che oggi era una giornata di festa di colorare tutti insieme dei bei pesci per fare un bello scherzo. Certo loro sono sì l'oggetto del contendere ma non vogliamo certo metterli di fronte a problematiche più forti e più alte di loro. Collaborano con i genitori semplicemente in maniera ludica e giocosa al nostro progetto, al nostro scopo che è quello di migliorare la loro vita. Quello che i genitori continuano a chiedere senza però ottenerlo è un incontro per far valere le proprie ragioni ma poter anche offrire il loro contributo. Incontro che ancora non c'è stato. Vogliamo assolutamente mettere in chiaro questi punti che fortemente dall'inizio dell'anno e ormai quindi sono sette mesi stiamo chiedendo. Crediamo quindi che il nostro sindaco non possa ancora rimanere muto come un pesce e che quindi si faccia presto avanti per convocarci e parlare insieme. Queste erano le notizie più importanti dell'ultima settimana. Noi siamo in chiusura, il tempo di salutarvi e augurarvi una buona serata. A presto! Grazie a tutti!